buonasera a tutti o qui in collegamento con corrado malanga e per fare una piccola intervista e per sapere cosa lui pensa di questo argomento che abbiamo voluto postare che ipotesi in divenire e che è una serie un ciclo di conferenze proprio per capire il momento storico che stiamo vivendo buonasera corrado buonasera a tutti voi allora ecco partiamo subito ecco io volevo chiedere a corrado secondo te corrado cosa sta succedendo in questo momento storico dal punto di vista diciamo energetico ma anche sociale politico cioè questa serie di segni così contrastanti tra l'altro questi momenti storici così direi anche demenziali strani che che stiamo attraversando ecco quanto incidono secondo te e quello che sono i poteri forti non so ecco voglio dire tirolanzo ma massonerie e lo stato alcuni alcuni governi segreti o governi dell'ombra e quando i cosiddetti alieni o entità vanno a pensare sul nostro percorso chiamiamolo diciamo evolutivo cosa pensi di tutto questo corrado è che questa è una domandona ci si potrebbe scrivere una serie di libri però nel rimanere nello strepo prendo spunto da quello che è successo ieri la regina d'inghilterra muove il culo e viene a trovare il presidente della repubblica italiana quasi nessuno lo sa si sono parlati una ventina di minuti poi la regina è andata anche a trovare il papa anzi c'è andata prima e poi ha ripreso il suo aereo e se ne è andata ora nessuno crederà che sia stata una vista di cortesia questo vuol dire che dal mio modestissimo punto di vista vedo come i poteri forti cioè le massonerie e soprattutto la massoneria inglese che quella che comanda tutte altre massonerie del mondo si sono diciamo così hanno dovuto scambiarsi anfas le parole le loro ordini e vari contro ordini per poter continuare a governare il mondo da questo punto di vista la massoneria è un potere fortissimo loro cercano di non farsi accorgere che comandano la regina d'inghilterra viene e neanche un giornalista in qualche modo viene interpellato fa un servizio roba del genere è chiaro che è un po come il gruppo bilderberg cioè i potenti del mondo che sono in quel contesto i ricchi soprattutto i banchieri si riuniscono una volta all'anno in un albergo il famoso bilderberg della prima volta fu quello l'albergo importante e a porte chiuse decidono che cosa fare dell'umanità è evidente che se c'è qualcuno che ha qualcosa da nascondere beh non è pulito e beh questo gruppo nasconde da sempre quasi la propria esistenza agli altri cerca insomma di non farsi accorgere la differenza sostanziale che noi vediamo nel nostro eh piccolo è nello stato italiano come vanno le cose nello stato italiano semplice eh l'Italia ha una posizione economica e sociale molto importante all'interno del Mediterraneo quindi si deve fare in modo che l'Italia non possa avere un governo forte perché non è l'Italia che deve governare sugli italiani ma sono i poteri forti quindi quando negli anni eh sessanta o negli anni settanta e ottanta gli anni del terrorismo eh l'Italia stava mettendo fuori il naso e diventava una potenza eh politica intante e strategica ecco che avevamo ehm le pseudo brigate rosse che si inventavano a destra e a sinistra eh una una storia da bombaroli per fare in modo che il nostro governo non diventasse mai un governo forte e potente dietro poi le brigate rosse scopriamo ora ma guarda caso che forse c'erano i servizi segreti americani e forse magari c'erano anche quelli russi perché non crediate che i russi e gli americani siano in disaccordo tra di loro in realtà è solo il modo con cui questi cercano di governare a noi ci appare erroneamente in disaccordo ma in realtà ti voglio interrompere perché hai toccato un tema molto forte molto importante no? Quindi in qualche modo mh ne stavamo guarda ti ho interrotto perché casualmente proprio in questi giorni ho postato una cosa su Aldo Moro insomma su quello che è successo eh adesso è un pochino palese forse a tutti che eh dietro a parte la famosa frase di Kissinger che disse no a Moro e mh dice se non te la smetti di adotturare i comunisti farai una brutta fine ripetuta dalla dalla moglie di Moro quindi da una fonte estremamente credibile quindi noi abbiamo una situazione che è apparentemente di contrasto cioè nel senso che la Russia e l'America io tra l'altro ho notato anche un grande silenzio da parte di Budine per anni e adesso è uscita fuori questa storia insomma mh questa storia dell'invasione e quindi questo anche quello che forse dicevi anche tu questo comando in qualche modo sul Mediterraneo ma ecco mh passando la seconda parte della domanda perché questo è un argomento magari che affronteremo mercoledì sera eh in Conte insomma in maniera molto eh esauriente spero ma ehm diciamo quanto quanto le eh chiamiamoli alieni le entità o comunque eh forse diciamo che non fanno parte strettamente del del terrestre sono coinvolti in questi in questi movimenti diciamo eh scandalosi orribili per certi versi quanto? Beh ci sono dentro fino al collo oserei dire ci sono delle evidenze chiarissime le evidenze chiarissime sono quando usavamo le ipnosi regressive eh per far ricordare soggetti addotti quello che succedeva loro ricordavano che nelle basi militari c'erano sempre militari di un certo tipo accanto ad alieni sempre dello stesso tipo era chiaro che c'erano dei gruppi di potere che erano legati all'aspetto eh dell'adduzione da lì si comprendeva come questi gruppi di potere andavano anche visti storicamente cioè sono i gruppi di potere storici che sono legati alle storiche massonerie che sono legati alle storie amicizie storiche amicizie ed in nemicizie degli stati per esempio perché eh Israele ce l'ha tanto col Vaticano perché gli arabi ce l'hanno tanto con Israele perché gli americani ce l'hanno tanto con la Russia sono gruppi di potere dietro i quali avevamo sempre alieni che in qualche modo eh sulla scena ufologica si facevano la guerra fra di loro in parole povere noi facevamo la guerra loro ecco sì e allora mh è preoccupante secondo te al di là di questa diciamo farsa di questa scenografia eh orribile in qualche modo ehm la situazione che che voglio dire diciamo di fronte di fronte alla Russia comunque c'è c'è la Turchia e sappiamo è una demunazia molto instabile e lì e lì di fianco c'è Israele ecco mh così non vorrei che insomma queste forze cioè ci fosse cioè fino a quanto fino a che punto si spingeranno per diciamo una destabilizzazione visto che visto che il rischio qui è a molto alto cioè il rischio veramente di una guerra a livello mondiale che sarebbe catastrofica presumo il rischio è alto ma è anche un rischio calcolato nel senso che dal mio modestissimo punto di vista io credo che i vari gruppi di poteri diciamo l'est e l'ovest tanto per creare un universo duale ehm che è di facile comprensione ehm buoni e cattivi non si sa chi sono i buoni non si sa chi sono i cattivi ehm l'universo duale non ha nessuna intenzione di eh spararsi eh la bomba atomica mh tra di loro perché la bomba atomica produrrebbe un inquinamento grave che produrrebbe una diminuzione dei contenitori cioè degli esseri umani che sono poi utilizzati dagli alieni come mucche da mungere quindi in realtà questo tipo di guerra ha scopi completamente differenti che sono scopi di natura puramente economica logistica di questo tipo non ideologica eh o religiosa o ideologia politica che è la stessa cosa eh in questo contesto eh la guerra atomica non ci sarà mai anche se eh Israele ha la bomba atomica l'India ha la bomba atomica nessuno la userà serve solo per fare un'altra cosa la bomba atomica serve per a far aver paura alla gente perché attraverso il meccanismo della paura che chi comanda dice mi raccomando non fate arrabbiare nessuno se no qualcuno impazzisce e getta la bomba atomica quindi la bomba atomica solo un eh un aspetto di natura deterrente per la guerra in realtà quello che oggi si vede è che ai russi gli interessa avere uno sbocco sul mare e per questo che eh hanno fatto eh quello che hanno fatto ultimamente a loro della Cecenia non gliene frega niente assolutamente eh ma il bocco sul mare per esempio è una cosa importante e quindi lo devono prendere gli americani lo sanno perfettamente e i russi lo sanno perfettamente e gli europei uguale quindi gli europei si dividono in due grossi gruppi quelli che insomma a Putin gli fanno fare quello che vogliono che sono la Germania e l'Italia perché noi siamo legati a doppio nastro con il il gas della Epron e gli altri che invece prendono il gas da un'altra parte non gliene frega niente di questo problematica gli americani peraltro eh perdono un pochino il contatto sul sul controllo del Mediterraneo avevano sperato che i russi in qualche modo non avessero più eh l'accesso a a alle zone invece che hanno ripreso ultimamente ma è solo un problema di natura economica perché forse non l'ha capito nessuno ma la vera guerra è una guerra economica gli americani sarebbero più intenzionati a fare la guerra all'Europa che non alla Russia faranno la guerra all'Europa o alla Russia solo per conquistare il mercato economico cinese perché per il resto non gliene frega niente a nessuno bene bene eh guarda si è stato si è stato molto esplicativo tra l'altro è un tema talmente grosso che affronteremo ecco l'ultima cosa perché mh voglio dire eh dovremmo approfondire alcune alcune tematiche che non sono strettamente perché non siamo appunto dei politici ma non sono strettamente politiche però rientrano perché insomma è tempo anche di cominciare a comprendere quanto sia importante ehm considerarci e viverci in questo spazio in questo spazio sociale e politico perché la spiritualità di per sé o l'evoluzione di per sé se non c'è un collegamento secondo me da un punto di vista sociale e politico serve a ben poco quindi ecco mh semplicemente ecco in due parole cosa potremmo in questo momento fare per ovviare a questa situazione cioè per diciamo per schermarci da questa situazione eh così ehm ehm di una situazione di un di un mo cioè di un sistema che che comunque ci 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 tende tende a a monopolizzarci a a condizionarci fortemente qual è la cosa secondo te più importante da fare in questo momento da un punto di vista individuale quindi di conseguenza da un punto di vista sociale eh hai detto bene da un punto di vista individuale l'unica cosa che si può fare è acquisire la consapevolezza di quello che sta succedendo solo attraverso la consapevolezza di quello che sta succedendo quando si guarda il telegiornale alla Lilly Gruber gli si ride nel muso quando racconta la sua versione delle notizie eh oppure eh quando il Papa dà delle indicazioni eh si capisce quale qual è il suo vero scopo per esempio ultimamente il Papa ha detto eh mi raccomando non seguite percorsi di autocoscienza guai queste vi portano verso il diavolo voi dovete passare attraverso Gesù e vi fa capire immediatamente come il Papa Bergoglio sia profondamente legato a quella che è la massoneria del mondo sudamericano con questa frase banalissima quindi acquisire consapevolezza che vuol dire eh sapere chi sei e c'è anche da dire una cosa semplice è possibile che la gente capisca chi è ora e lo sta facendo sempre di più ma arrivare in tempi brevi ad una consapevolezza che porterebbe alla creazione di un esercito non più di mille persone contro chi vuole comandare ma mille eserciti di una persona sola che come i Piranha eh coscienti direbbero no alle istituzioni ehm seguendo quella che è la risposta cioè una guerra civile un ma non una guerra civile italiana ma una guerra civile mondiale ecco per arrivare a questo che sarebbe il punto di non ritorno dove tutti i potenti scapperebbero non si farebbero più vedere per ottenere questo ci vorranno altri 400 500 anni quindi la via è la via della coscienza ma credo che siamo ancora molto in ritardo. Bene Corrado ehm mi verrebbe voglia di aggiungere no in qualche modo parlavi di massa critica eh credo eh comunque voglio dire non non scopriamo troppo le carte nel senso che è bene approfondire con estrema calma questi argomenti quindi io vi invito e ricordo tutti a questa conferenza fatta sul web eh voglio essere estremamente esplicito cioè una conferenza che parte da questo programma che è il Thea Speak che va scaricato e eh la faremo mh mercoledì sera alle 21.07 con con avendo l'onore di avere con noi Corrado Malanga e potremo appunto chiedergli tutte le cose che vogliamo in questo paio d'ore che staremo insieme ecco quindi io ringrazio Corrado di questo di questa breve breve intervista e eh vi eh vi ricordo appunto mercoledì sera alle 21.07 però mi raccomando per chi vuole partecipare e i posti sono limitati perché purtroppo mh è un programma che c'ha eh che c'ha voglio dire una limitazione di di spazi eh di mandare un messaggio su Facebook privato con il numero telefonico che serve esclusivamente a fare un settaggio del programma vi ringrazio e ringrazio Corrado e e e e mh arrivederci a mercoledì sera allora grazie Corrado a mercoledì a mercoledì Grazie a tutti.